Volevo sapere se era a conoscenza di questa pagina Facebook che è stata creata da poco e si chiama Riportare Bertolacci a casa. Ci sono per adesso solamente 23 tifosi, in linea di massimo dovrebbero essere tutti della Roma, come questo presentimento, c'è una tua foto in giallo-rosso da sbarbato, anche se la barba c'era, ma eri piccolino. La conoscevi questa pagina, Andrea? No, no. E com'è il tuo sentimento che ti lega alla Roma? Molto spesso è viscerale, sembra che non si possa vivere al di fuori della Roma o di Roma. E poi ci sono quelli magari un po' più… Guarda, io ho fatto la scelta che ha 19 anni di andare via da Roma per proseguire la mia crescita e se tornassi indietro la rifarei tutta la vita perché se allora sono diventato un calciatore comunque di Serie A affermato e sono arrivato in Nazionale è perché sono andato via, perché ho trovato continuità e perché comunque a 24 anni ho 125 presenze in Serie A e non molti della mia età l'hanno. Questo è perché appunto sono andato via e ho avuto la possibilità di mettermi in mostra.